Dopo 28 anni Sorrester Mazzara lascia la direzione dell'Istituto Sacro Corre di Siracusa per assumere un importante incarico a Roma. La preside dell'istituto in cui ha visto crescere diverse generazioni di studenti siracusani ricopre oggi un ruolo di responsabile dell'Istituto delle Suore del Sacro Corre di Ragusa, istituzione che nacque 130 anni fa ad opera della fondatrice Maria Schininà, nobildonna ragusana che volle fare qualcosa per aiutare i bisognosi. 28 anni di esperienza a Siracusa, che cose l'hanno lasciato? Ma un pezzo di cuore direi. Siracusa è stata per me una grande città. Forse la generazione di questi ragazzi sono stati tutti figli miei. Abbiamo cercato di guidarli sotto tutti i punti di vista perché i ragazzi avevano bisogno di essere capiti, di essere compresi, di essere aiutati. E questa esperienza è stata bellissima. Bellissima perché fino a quest'anno abbiamo cercato di portare avanti 40 ragazzi che sono arrivati alla maturità. In genere è un istituto che lei ha preso con alcune classi o comunque alcuni indirizzi di studio, adesso è quasi tutto completo. 500 ragazzi che sono passati da qui, nelle varie generazioni, che cosa le hanno detto quando ha ricevuto questo bel incarico? Allora, i ragazzi sono contenti da una parte perché Sor Est secondo loro ha avuto una promozione, ma dall'altro lato sono dispiaciuti perché io mi allontano da Siracusa. Non è facile, non posso dire che ritornerò ogni giorno. Per questo lascerò Sor Caterina che sarà la mia grande sostituta in questo momento. Lei va a Roma, o meglio, veniva da Roma e torna a Roma, stavolta con un portanto, il massimo grado della responsabilità. Sono stata a Roma per tanti anni e a Siracusa sono arrivata come preside. Sono stati pochissimi, ho trovato l'istituto magistrale, adesso lasciamo tre indirizzi, il liceo classico, il liceo scientifico che inizia quest'anno, il liceo delle scienze umane e il liceo linguistico. Quindi io mi auguro che questa generazione, questi ragazzi continueranno, soprattutto i genitori, continueranno a credere nella nostra scuola e quindi qui da noi potranno ancora imparare, soprattutto imparare a vivere, perché l'alunno oggi ha bisogno di didattica, ma ha bisogno soprattutto dei veri educatori e se non ci sono questi la scuola può fallire. Lei però va a raggiungere Roma, ma soprattutto ha un ruolo davvero basilare, importante per questa missione. Certo, il 22 maggio tutte le sore riunite in un capitolo a Ragusa hanno pensato di eleggere me come superiore generale. Sono 130 anni che l'istituto è stato fondato e quindi da 130 anni porta avanti la missione. La missione che quest'anno ha un titolo ben preciso, dalla missione alla carità. Rendersi conto che cosa significano le nuove realtà che ci sono in tutte le parti del mondo. Che noi abbiamo suori in ogni parte del mondo, dal Madagascar alle Filippine, alla Nigeria, alle Indie, alle Americhe. Quindi in Polonia capire tutte queste suori, cercare di relazionarsi con queste suori diventerà un impegno soprattutto importante da parte mia, perché ognuno si deve sentire sorella nella nostra congregazione. Cosa significa, suor Caterina, prendere il testimone importante come quello lasciato dalla sua resta? Sicuramente non è una eredità facile da portare avanti, però ho solo nel cuore una cosa. Ciò che lei ha sempre incolcato in noi, cioè di considerare la scuola aperta per tutti, perché questa famiglia grande deve poter accogliere tutti. Ovviamente adesso ha un ruolo che lei, insomma, la impegnerà a quanto? Allora, sicuramente, ufficialmente sarà dal primo settembre, perché sarà lì il momento in cui sor Caterina prenderà, diciamo così, il ruolo di preside di questa scuola. Non sarà facile, ma siccome Sor Ester sarà sempre più presente, non fisicamente, ma da lontano ci guiderà. Quindi per me sarà sempre un punto di riferimento. E vorrei anche ringraziare i genitori che veramente hanno dimostrato di continuare a sostenere questa grande famiglia. Se non ci sono loro, sicuramente la scuola non ci sarebbe neanche oggi.